Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo e poi arrivò un'altra esplosione Inizia così il gasamento più gasamento del mondo Inizia così con quelle parole, Death Stranding Vediamo il protagonista, Daryl di The Walking Dead, scappare praticamente dalla pioggia chiamata Crono Pioggia, che fa invecchiare ciò che tocca Scappa, 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 che ti riscappa La sua moto crolla in un burrone, dovremo andare dentro una grotta dove troviamo per la prima volta in assoluto Bruno di Tamburi che fa venire la tensione, Scarlett Johansson Ovviamente sto scherzando ragazzi, non è Scarlett Johansson ma onestamente, a me personalmente, un po' il viso, un po' le fattezze la ricordano In realtà si chiama Fragile ed è una gnocca da paura, soprattutto per il suo abitino mega attillato A parte questa introduzione ragazzi, devo dire che il gioco mi ha convinto al 100% Ma sono stato uno dei più grandi scettici appunto, prima dell'uscita di questo titolo Ne parlavo infatti con amici, al telefono, su gruppi whatsapp, ovunque praticamente E tutti ci chiedevamo, ma che cos'è questo gioco? Cosa rappresenta? Cosa bisogna fare? Camminare e basta? Il senso di questa cosa? Perché bisognerebbe fare? Cioè che cos'è? Kojima si è fumato qualcosa? Molto probabilmente sì Ma si è fumato una cosa talmente tanto buona da fare quello che ha fatto Parto dicendo ragazzi che non sono mai stato un fan di Kojima Non l'ho mai adorato, non l'ho mai creduto un dio Non ho mai creato in casa altarini, non sono mai andato in chiesa appunto a pregare per lui Per farlo diventare santo Ho semplicemente giocato e apprezzato appunto i Metal Gear Non tutti, ma comunque li ho apprezzati Dunque quando usciva un trailer di Death Stranding Mi interessava sì, ma fino a un certo punto Ma quel fino a un certo punto era proprio dettato dal fatto che non ci capivo nulla Di quello che veniva mostrato Ma questa cosa non è successa solo a me, è successa al 100% dei miei amici E se è successo a tutti i miei amici di non capire il senso di quei trailer Di non capire il senso e la motivazione di questo gioco Allora penso che ci sia un problema di fondo proprio globale Forse di comunicazione, forse di voglia appunto di non far capire niente alle persone su Death Stranding Non si sa, non si saprà mai forse Ma onestamente ci è riuscito, ci è riuscito la grande perché ha sfanculato praticamente tutto quanto il mondo E sotto questo punto di vista è un genio assoluto Per 30 anni sono usciti trailer, scene di gioco, lui che cammina, intervista a Kojima Microdettagli insignificanti perché comunque non capivi nulla E siamo arrivati finalmente ragazzi all'uscita dove la maggior parte delle persone non ha capito realmente nulla Infatti crede che sia soltanto un gioco simulatore di corrieri Anzi simulatore di camminata E questo fino a tre giorni fa lo pensavo anch'io onestamente Infatti ero molto scettico sul giocarlo e non volevo deludermi tra virgolette Visto appunto gli anni d'attesa, l'hype enorme che si creava non tanto per me ma intorno a me Dunque mi gasava E dopo questa enorme introduzione sono veramente contento di essermi sbagliato Cioè sono contento di averlo avviato, sono contento di aver perso appunto 15 ore Perché sono diciamo quasi all'inizio si può dire così Nel mondo di gioco e ho capito la storia Che non ve la dirò ovviamente perché non voglio spoilerarvi E non voglio togliervi quel velo di mistero che Kojima ha voluto creare intorno alla storia Intorno a tutto praticamente Ma mi ha lasciato, mi sta lasciando delle emozioni enormi Allora la prima cosa che devo dire colpisce di Death Stranding è il comparto grafico È inutile tanto girarci intorno Graficamente è pauroso Io lo sto giocando appunto su PlayStation 4 Pro E quando si avvia il gioco e inizia a comandare diciamo Sam Si rendi conto della maestria degli sviluppatori Cioè riuscire a creare un gioco che ha del fotorealismo Cioè non riesce a capire realmente se le scene iniziali che vedi Ma anche quando lo stai giocando Ma prima parte un filmato dove ti fa vedere il mondo Non riesco a capire ancora adesso se sono filmati veri Messi lì come trailer diciamo iniziale del gioco Oppure fatto con la grafica del gioco Cioè realmente ragazzi vi posso assicurare che non sono ancora riuscito a capirlo Da quanto dettagliato è Anche quando prende appunto come ho detto prima I controlli del protagonista E incomincia a girare, a camminare, a guardarti intorno Non riesce a crederci Cioè semplicemente non riesce a crederci Vedi i micro fili di erba Che praticamente si muovono uno diverso dall'altro La texture delle rocce del terreno bagnato Che secondo me è una cosa veramente da sbava la bocca Stessa cosa per le cascate I ruscelli come hanno creato diciamo l'acqua È tutto quanto vero E questa è la prima cosa che mi ha detto Oh mio dio ma che cos'è Cosa sto giocando La seconda cosa ragazzi che mi è rimasta veramente impressa Sono i caricamenti Onestamente un mondo così enorme Così dettagliato Ok che non c'è la stessa popolazione di GTA Non ci sono macchine che girano Persone con l'intelligenza artificiale che si muovono nella mappa Animali E qualsiasi altra cosa Ma appunto un mondo così enorme Così dettagliato Si carica in 15 secondi Ovviamente io utilizzo ssd esterni Però veramente è una cosa mai vista Cioè ci impiega più code a caricarsi Ma del triplo proprio Parlo ovviamente di Modern Warfare Che è un death standing Che è un gioco completamente aperto E questa è la seconda cosa La terza cosa è assolutamente la storia Ripeto la storia perché c'è una storia Ed è interessantissima Ma soprattutto la regia Cioè la regia di Kojima ragazzi Sembra di vedere un film Ma uno dei migliori film in sala Cioè andare al cinema E guardarsi un capolavoro assoluto della regia Ogni inquadratura Ogni movimento che fa il protagonista Ogni cosa che sta succedendo a schermo È ripresa in maniera perfetta Il movimento della camera Cioè sembra veramente che ci sia Un cameraman in scena Che si muove e segue Quello che sta parlando in quel momento È una cosa sbalorditiva E anche il doppiaggio ragazzi Sono rimasto veramente colpito dal doppiaggio Perché almeno fino adesso Magari dopo ci sono sbavature Non lo so Ma per adesso il doppiaggio in italiano È veramente ottimo Dunque tutte quante le cose Voce, dialoghi, menù E tutto quanto E sottotitoli Ovviamente è tutto quanto in italiano Ma questo ovviamente lo saprete già Avendo visto le recensioni Videorecensioni Live Gameplay Ma ora ragazzi parliamo un secondo Anche del camminare Visto che questo Tutti lo classificano appunto Un simulatore di camminata Il camminare e la camminata Ha un ruolo importantissimo nel gioco Ha un ruolo principale nel gioco Infatti gli sviluppatori sono riusciti a creare Di movimenti molto reali A parte alcune sbavature Mentre si scende Non sono proprio perfette Ma chi se ne frega La gestione del peso Così come anche la struttura ambientale Cambiano di volta in volta Infatti se noi mettessimo ad esempio Su una spalla Sulla spalla sinistra E 50 kg su quella destra Invece 10 kg Camminando Saremo sbilanciati ovviamente Verso la sinistra Perché ha più peso rispetto alla destra Stessa cosa Se mettiamo tutto sulla schiena Ovviamente il nostro personaggio Rischierà di cadere all'indietro O di cadere in avanti Dunque ribaltarsi Morire Spaggere tutto Se è in discesa Dunque in questo caso Hanno fatto veramente un ottimo lavoro Proprio di perfezionismo E una volta che sarete andati avanti Nell'avventura Avrete preso la mano appunto Con i controlli Avrete capito appunto Come riuscire a strutturare al meglio la cosa Diventa tra virgolette facile E dà molta soddisfazione Ecco una cosa che ho notato Che volevo già dire dall'inizio Ma me la sono dimenticato Questo gioco innanzitutto È una droga completa Cioè nel senso che Lo giocheresti dalla mattina alla sera Vuoi vedere come va avanti Vuoi vedere come progredisce No? Ma soprattutto la camminata Che era una cosa diciamo Criticata da tutti Ne si sono presa comunque in dubbio da tutti Dà una soddisfazione immensa Anzi il gioco ti dà una soddisfazione immensa Quando riesci a portare un carico Da una parte all'altra Arrivi dall'altra E ti senti come aver completato qualcosa Di grande no? Perché appunto il gioco unisce Tutte quante le persone Infatti è un gioco multiplayer Ma non che nel gioco Vedrete altre persone Che si muovono appunto insieme a voi Ma avrete messaggi sparsi O di pericolo O di consigli Vedrete delle infrastrutture Appunto crearsi Man mano che andrete avanti nel gioco Comunque sia Una volta che tornate nel gioco Perché altri giocatori Potranno iniziare a creare Ad esempio dei ponti Per facilitare Non so il passaggio Da una riva all'altra Di un fiume E voi potete dare una mano E utilizzare quei ponti Lasciando mi piace no? Dunque ringraziando quelle persone Che hanno speso diciamo materie Per poterli creare Stessa cosa per l'autostrade Stessa cosa per le scale Per i rampini E qualsiasi altro oggetto Dunque ti senti proprio In un mondo vivo Anche se sei da solo E ti dà quel vero senso Di completezza Cioè il fatto di poter aiutare Gli altri A rendere la vita migliore agli altri E allo stesso tempo Anche gli altri A renderti la tua vita Diciamo all'interno del gioco migliore Ti dà proprio questo senso Di felicità E non è poco da un videogioco Onestamente Visto che erano anni Che non mi divertivo Tra virgolette così E non avevo questo senso di Oh mio dio che figato Ho fatto qualcosa di Tra mille virgolette Ovviamente importante Ho parlato fin troppo ragazzi Questa non voleva essere Assolutamente una recensione Infatti non l'è stata Non voleva neanche essere Un Compratelo assolutamente O lasciatelo sulle scaffali Assolutamente Visto che È un gioco che O piace o non piace Vi posso solo dire che Il 100% dei miei amici Appunto che Aveva dubbi su questo gioco Può essere comprato E gli sta piacendo E diventata una droga E ci sarà sicuramente qualcuno Che dirà No che schifo È una merda Lasciatelo stare O cose così Però nel globale Io parlo della mia esperienza Appunto con i miei amici Tutti quelli che erano in dubbio Se lo sono preso E adesso gli sta piacendo Dunque qualche motivo Appunto ci sarà Spero ovviamente ragazzi Che questo video Vi sia stato utile In qualche modo Comunque sia in una scelta O che ne so io E che dire dunque ragazzi Un pollice in su È sempre apprezzato Un commentino Lasciatemelo qua sotto E fatemi sapere Se anche voi state amando Diciamo Death Stranding Se lo state odiando Se non lo comprerete mai Se la dovete comprare Se avete voglia Eccetera eccetera Fatemi sapere tutto quanto Nei commenti E che dire Al prossimo video In tutto il video Praticamente ho parlato Di una esclusiva Sony Indossando una maglietta Di Nintendo Una failpanzi di Nintendo Bene C'ha molto senso come Vabbè